E' un po' in giro ragazzi perché nelle gare avete anche un tempo da rispettare E' una cosa bella è che nella gara ci sarà una linea breve e non è la stessa D'accordo? No Oppure mi fanno andare a lavorare con me e le donne E' un po' in giro Ma venuti a questo raccontare l'un po' in giro E' un po' in giro Sì E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.